Si è spento a 31 anni d'età Scott Westgard, pugile inglese, si è spento dopo aver vinto il match contro Dick Spelman nel ring di Doncaster. Tuttavia dopo un incontro combattuto, tanta gioia mostrata in televisione Scott, purtroppo si è sentito mare, è stato ricoverato in ospedale dove è giunto ed è morto. Durante l'intervista, dopo la partita, il pugile sarebbe appesso piuttosto sofferente, si è ritirato dal suo camerino e ha accusato un malore. Vani, soccorsi, il ricovero dell'ospedale, non è stata ancora chiarita la causa esatta del malore che ha provocato poi la morte al giovane Scott Westgard. Di soli 31 anni d'età, una giovane vita che si spegne e rotto dunque nel mondo della pugilato, del bot della box, chiamatela come caspita, volete voi. Grazie a tutti per l'ascolto, utenti di YouTube. Il video termina qua. Scott Westgard, riposi in pace. Amen. Grazie a tutti.